Ciao ragazze, questo è un video dove vi voglio parlare di ultimi acquisti che ho fatto in questo periodo quindi è un video con prodottini un po' random cominciamo subito da un ordine che ho fatto poco tempo fa da Machillalia quindi il mio secondo ordine, perché volevo acquistare altre cose della Makeup Revolution e comunque, dato che parto, perché faccio questo video perché è un po' di tempo dato che da domani fino a domenica sarò a Budapest faccio questo viaggio di 4 giorni con il mio ragazzo che appunto gliel'ho regalato io per il compleanno, dato che domenica compie gli anni e nulla, quindi mi servivano delle cose che fossero compatte, non occupassero molto spazio e comunque volevo provare anche altri prodottini ho il freddo perché me la so fatta di corsa la vecchiaia comunque, iniziamo subito da quello che ho ordinato da quello che ho ordinato perché c'era una promozione che se avessi speso 30 euro quindi da 30 euro in su, mi avrebbero regalato 5 prodottini in taglia full size e uno specchietto quindi ho approfittato dell'offerta la prima cosa che ho voluto acquistare è questa qui questa palette si chiama Definition eccola qui molto carina è della linea I Love Makeup o I Hurt Makeup non mi ricordo, penso I Hurt si chiami la linea ed è sempre della Makeup Revolution diciamo è quella leggermente superiore dato che è quella che costa di più appunto rispetto a quelli che riportano il marchio Makeup Revolution che dovrebbero essere proprio la linea base comunque, che cos'è? si tratta di questa bellissima palettina composta da terra, blush e illuminante veramente carina io ho preso nella colorazione medium vi faccio vedere se riesco a sbocciarveli ecco la terra, il blush e l'illuminante questa con uno specchietto grandissimo tra l'altro ed è veramente veramente carina e pratica proprio perché parto vado in aereo quindi non imbarco il bagaglio e cerco di portarmi tutte cose compatte diciamo il meno possibile quindi questa qui è carina l'ho provata mi piacciono molti i prodotti di questa marca perché trovo che il rapporto qualità-prezzo sia molto buono e non puzzano non hanno cattivi odori li trovo anche scriventi e pigmentati veramente mi piace quindi questa è fantastica da portare in giro l'adoro ormai allora poi come non prendere della stessa linea il blush l'illuminante quelli a cuoricino che sono bellissimi secondo me vi faccio vedere innanzitutto l'illuminante il goddess of love che è questo qui non so se si percepisce ma è cangiante bellissimo ragazzi proprio bellissimo cioè la sua ora non so se si riesce a vedere comunque e lo sguaccio non si percepisce tanto forse dalla telecamera comunque è bellissimo dato che io come illuminante ho il soft and gentle di MAC ma comunque tende al dorato questo è più sul rosa quindi ha dei toni un po' più freddi quindi mi serviva e l'ho preso fantastico anche questo mi piace tantissimo poi questa confezione dorata dietro e bianca davanti con queste scritte fucsia sono carinissime trovo molto carini i packaging anche se semplici secondo me sono molto attirano molto l'attenzione ecco poi ho preso il blush questo blushing earth è il vediamo un po' no questo è il nome del colore insomma blushing earth che è questo qui fantastico anche questo è un blush cotto formato da questi tre colori quindi questo rosa questo glicine e questo lilla fantastico vediamo se se riesco vedete questo qui questo qui poi se riuscirò naturalmente non adesso magari quando torno da Budapest vi metterò un articolo nel blog dove vi farò vedere meglio gli swatch poi cosa ho preso non potevo non prendere un altro dei foil finish foil non so come si dice comunque di questi qui con il liquidino appunto per prelevare il prodotto applicarlo e avere questo effetto bagnato metallico vi metto qui il link del video precedente questo è nella colorazione platino io lo avevo già platino se non sbaglio che cavolo è non mi ricordo comunque è quello argentato l'avevo nella colorazione verde smeraldo e un dorato rosa un rosa dorato poi ho voluto provare questo pennellino l'f103 questo stifo brush fatto così che è carino per magari sfumare i prodotti in crema anche sotto l'occhio essendo così piccolino e carino anche questo non ricordo i prezzi poi ve li scrivo ecco sempre quando torno perché non ho tempo ora nell'info box quindi magari ricontrollate dalla prossima settimana un altro prodottino che mi piace tantissimo è la tinta per labbra anche di questa tinta ne avevo acquistata una nel video appunto nel primo acquisto che ho fatto di cui vi ho fatto vedere il video ed era questa qui che ha un colore assurdo cioè bellissimo d'estate ma è talmente fluo quel colore che io penso che sbatte sia bianca come sono adesso che sia quando sarò abbronzata dato che quando me lo metto sembro un paio di labbra che cammina è veramente una cosa assurda un colore bellissimo per carità ma difficile da portare ne riparleremo quest'estate quando mi abbronzerò un po' perché adesso veramente non si può vedere allora questa volta ho acquistato il Velvet Rebel bellissimo vi faccio uno sfocetto è una cosa fantastica eccolo qui questo a differenza dell'altro colore ho notato che è molto più facile da stendere e veramente ha una stesura molto molto facilitata anche dalla come posso dire dalla composizione del prodotto all'interno perché non è né liquido né troppo cremoso sembra quasi un gel quindi scivola benissimo ve le consiglio comunque sempre con una matita sotto e trovo che sia molto bene con la matita che è quasi uguale tra l'altro della Wicon la Intrig la numero 11 della linea Long Lasting Lip Liner che è questa qui che è veramente il suo colore poi vediamo un po' ah questo è lo specchietto che mi hanno mandato carino è un po' deformato quando vi guardate serve per guardarsi da vicino perché se vi guardate così dà un po' affassito agli occhi però da vicino si vede bene e comunque carinissimi perché appunto era un regalino che hanno messo dentro insieme al solito pacchetto di Aribu che potete immaginare è finito in due secondi poi allora che cosa mi hanno inviato gratis quindi proprio perché c'era questa offerta 5 prodottini full size allora mi hanno mandato due prodottini per le unghie uno è uno smalto magnetico di questo bel colore della marca fashionista penso sia sì questo qui comunque bel colore l'unica cosa che è magnetico ma non mi sembra di aver visto il magnete quindi o si è perso o davano per scontato che io lo avessi vabbè comunque ultimamente non sto mettendo gli smalti ma sapete che sto mettendo semi permanente quindi magari lo userò più là o lo regalerò a una mia amica e poi questi qui della Mua che sono queste micro palline per effettuare le nail art questa posso provare anche con il semi permanente vi farò sapere poi mi hanno inviato una cosa di cui sono stata veramente contenta che è questo blush sempre della Makeup Revolution in crema sono stata contenta perché lo volevo acquistare poi all'ultimo l'avevo tolto dall'ordine però quindi sono stata contentissima che me lo abbiano inviato allora l'unica cosa è che questo qui arriva qui appunto quando è arrivato ma cioè prima di far uscire il prodotto ho dovuto schiacciare talmente tanto che è salito qua e quindi in realtà c'era molto meno prodotto all'interno però l'ho provato ragazzi ed è fantastico poi si fissa in una maniera incredibile ne basta una goccia cioè già questo è tantissimo vi faccio per farvi capire comunque estremamente pigmentato quindi ne basta veramente poco che io l'altra volta ho provato mi sono trovata due guance da Heidi però ecco non sapendolo quindi comunque dura tantissimo ne basta pochissimo poi magari vi farò un video tutorial dove utilizzo le cose che mi sono piaciute di più di quest'ultimo ordine o comunque delle cose che ho acquistato ultimamente poi mi hanno inviato una palettina addirittura sempre della linea della Makeup Revolution I Hurt qualcosa Makeup allora che è questa palettina carinissima con questi colori nude sono un po' come i colori della Icon 3 di Makeup Revolution della Naked 3 appunto di Urban Decay e contengono questi sei ombrettini di cui due sono matte questo color questo color panna e questo tortora che dà molto su rosa poi ci sono due tonalità di rosa una tonalità di marrone violaceo con dei glitter e un marrone satinato freddo carinissimo poi c'è anche questo rossettino che mi fa strano perché a vederlo è di un colore quando lo sbocciate è un rosa molto baby e non sembra più lo stesso rossetto però carina la confezione e naturalmente quando l'ho vista ho detto ah ho la palettina da portarmi in viaggio dove c'è veramente tutto perché io avrei voluto portarmi o la palettina la Naked quella un po' più grande o ho detto vabbè la mi porto un ombretto però poi mi sarei dovuta portare anche l'ombretto per la piega mi sarei dovuta portare per l'arcata perché io parto sempre così dico no devo portarmi poche cose matita e mascara ma alla fine non ce la faccio è più forte di me mi porto casa appresso allora poi l'ultimo prodottino che mi hanno inviato è questo gloss diciamo una tinta tint e balm per labbra della Mua che sta di menta in questo colore rosso rosso ciliegia carinissimo quindi fa le labbra molto lucide e io personalmente non amo molto questo tipo di prodotto soprattutto in questa colorazione cioè per me i rossi i rossi che mi vedete indossare o che comunque indosso sono dei rossetti i rossi un po' gloss quindi semi lucidi semi trasparenti non mi piacciono tanto però magari è carino da applicare su un rossetto rosso matt per creare dei punti luce al centro delle labbra un altro allora per Magillali all'ordine di Magillali abbiamo finito un prodotto che sto amando è questo prodottino qui del Biofficina Toscana che è una crema labbra riparatrice bolosa cosa serve? è un primer labbra cioè in realtà è proprio una crema riparatrice quindi una sorta di burro di cacao però è buonissimo anche come base labbra per i rossetti io ce l'ho su ora e veramente fa delle labbra lisce compatte si asciuga subito e l'applicazione sopra del rossetto viene perfetta vi faccio vedere tra l'altro cogliendo l'occasione visto che ne stiamo parlando quest'altro prodottino che mi piace tantissimo ed è questo rossetto di mesauda che ho su ora con questa matita l'acqua keys matite per labbra fantastiche ragazzi veramente ve le ve le straconsiglio sono waterproof sono a lunga tenuta hanno dei colori bellissimi questa è la 103 vi faccio vedere comunque l'ho messa sotto poi successivamente ho messo questo rossettino qui bellissimo si chiama Heidi la linea è top model lipstick ed è questo rosa un nude un po' scurino non so come definirlo comunque è veramente un bel colore e sotto ho applicato quella crema riparatrice vedete io che di solito ho tante pellicine ho le labbra liscissime non avendo fatto scrub non avendo fatto nulla quindi questo qui questo rossetto promosso quindi se avete la possibilità di provare i prodotti di mesauda provateli perché sono sono veramente validi io vi ho fatto vedere il mio il video appunto del semi permanente e mi ci trovo benissimo e sto provando anche qualche prodotto di trucco quindi man mano vi farò delle recensioni magari quando accumulerò un tot di prodotti vi farò un video con i prodotti che secondo me appunto sono buoni di questo marchio quindi intanto diciamo che faccio l'accumulatrice seriale l'altro giorno in profumeria sono andata per acquistare un fondoginta dato che quelli che ho non mi piacciono vi farò poi una review non ve li anticipo perché ve ne parlerò altrimenti si apre un mondo comunque ho ripreso il color stay questo qui della Revlon che avevo un po' di tempo fa allora quando parlo di fondotinta che non mi piacciono più non includo assolutamente il mio double wear di Estée Lauder ma quello non lo utilizzo per altri motivi semplicemente perché era una colorazione un po' più scura quindi adesso che sono diventata di nuovo bianca appunto è un po' che non lo utilizzo però quello lo amo ma ne ho provati altri nel frattempo che non mi sono piaciuti per niente questo qui cercavo uno che non costasse tantissimo e quindi mi sono fendata la prima profumeria e l'ho riacquistato perché è fantastico vi farò una review l'unica cosa che odio ma odio di questo fondotinta è questo contenitore in vetro perché il prodotto non è liquido come può essere il double wear che esce tranquillamente è abbastanza cremoso quindi per farlo uscire ogni volta è un'odissea comunque questo buonissimo vi farò la review a parte e ho approfittato dell'offerta della cupa del mascara vamp più la matita mi sembra a 7 euro 6 euro e qualcosa e matita nera questa matita è veramente fantastica multiplay numero 09 è ma lunga durata è morbidissima si sfuma benissimo veramente buono e il vamp lo conosciamo tutti spero che non faccia la fine dei miei altri vamp che ho acquistato che dopo una settimana erano una pappa indecente che si attaccava sulle ciglia e faceva dei ciuffetti con vita loro insomma a parte niente ragazzi questi sono gli ultimi acquisti che ho fatto nel periodo mi piacciono veramente tanto quindi di alcuni sono veramente soddisfatta comunque a breve a breve a fine mese vi farò il video con i preferiti di gennaio di gennaio di febbraio perché ce ne sono di prodottini da farvi vedere e nulla vi ripeto parto non ci sono per 4 giorni se riesco seguitemi su instagram che vi pubblicherò qualche fotina magari per rendervi partecipi del mio viaggio e nulla un bacione alla prossima